Avanti, avanti! Avanti, così, avanti! Mauro! Vado? Sì! Vai! Su quella mano così? Grazie! In mezzo alla prapina c'è una pelle statina Tu ma sei capo sono una bambina di cinquant'anni di cinque figli venuti al mondo con le conini partiti al mondo come soldati e non ancora tornare allora dico visto che poi quando abbiamo finito questa canzone dobbiamo andare a casa tutti quanti no? allora dite voi che siete sinistri voi che siete sulla destra seguite qui anche voi insieme andiamo questa canzone poi ce lo diamo tutti forza fate questo sforzo che fate un bel regalo all'orchestra e lì davanti tutti giù vado maestro vai